16 gol alla prima uscita per il Teramo, più una sgambata contro lo Sportland Celano, squadra di prima categoria che ha affrontato i biancorossi a canestro davanti a oltre 150 tifosi arrivati dal capologo Aprutino. Buone indicazioni per Bruno Tedino che attende ancora di vedere la rosa completata, ma intanto si gode già una formazione, anzi due, in discreta condizione fisica. I giorni di lavoro sono ancora troppo pochi per poter dare una valutazione definitiva, ma i concetti di gioco dell'allenatore si intravedono, soprattutto nel movimento spalle alla porta degli attaccanti e gli inserimenti dei centrocampisti a supporto. La catena di destra con Cancellotti e il nuovo arrivato Santoro, suo il primo sigillo della stagione, funziona già con meccanismi a tempo. Su quella mancina con Ilari e Di Matteo ci sarà da lavorare ancora un po'. Cianci fa sportellate, Minelli è una sorpresa piacevole, specie perché ha sincronismi da trequartista vero. Ad Arrigoni invece sono consegnate le chiavi del gioco teramano. Il primo tempo chiuso 4 a 0 grazie alle reti di Santoro a punto, Cianci, Pinsauti e Minelli in chiusura. Rivoluzionato ben intero l'11 nella ripresa, davanti Sparacello e Infantino segnano a raffica, 4 gol il primo, 5 il secondo. Altra bella scoperta è la centravanti Daniel Birligea, arrivato con Santoro qualche giorno fa da Palermo, ma che dimostra, al di là delle due marcature, che è in grado di sacrificarsi per i compagni, interpretando anche un ruolo, quello di sottopunta, non proprio suo. Mercoledì si torna in campo con il Capistrello, test leggermente più probante rispetto allo Sportland, in una marcia di avvicinamento ai primi impegni ufficiali a metà agosto, quando il diavolo scenderà in campo, l'11 e il 18 per la Coppa Italia. Partite quelle che Tedino conta di affrontare con la rosa definitiva, perché saranno l'antipasto all'esordio in campionato di Catanzaro del 25. Mister Tedino, 16 gol per iniziare, la prima uscita, soddisfatto? Sono intanto contento che non si sia fatto male nessuno, a parte Viero, che ha una leggera distorsione da trauma, però sì, sono contento per l'impegno, sono contento ovviamente per qualche principio che è stato messo già in campo, però cinque giorni di lavoro sono troppo pochi per avere un'immagine chiara, naturalmente, però insomma i ragazzi stanno lavorando bene, io non posso dire nulla, anzi sono molto contento e soddisfatto di tutto quello che vedo proposto. A proposito di principi di gioco, Cicorrega, se sbagliamo si sono visti nel primo tempo il lavoro spalla alla porta degli attaccanti, gli inserimenti delle mezziali, è questo che chiedete Tedino? Anche, anche, chiaramente adesso non ci sono giocatori brillanti perché stiamo facendo un buon carico di lavoro, ma ci sono tante cose che chiedo e quindi il gruppo che ho a disposizione sinceramente lo sta mettendo in pratica, ripeto, imparare l'inglese o il turco in cinque giorni credo che sia impossibile, quindi un'idea calcistica è difficile metterla in pratica in così poco tempo, però visto l'abnegazione, visto l'energia, l'entusiasmo e la qualità del lavoro sono molto ottimista. Così, così siamo molto incompleti, lo sa la società, lo sa Andrea, lo sa Sandro, lo sa il presidente, lo sanno tutti, insomma è normale che non è che si possa avere pretese con un gruppo incompleto, noi siamo in questo momento incompleto, però su questo noi stiamo lavorando, qualcuno arriverà e spero quanto prima, però in questo momento del mercato non mi occupo io, io devo solo lavorare questi ragazzi che mi stanno dando delle enorme soddisfazioni a livello umano e anche calcistico. Non vogliamo i nomi, ma almeno i profili, almeno le zone di campo, un giocatore per ogni zona di campo sbagliamo? No, non sbagliate, però insomma più o meno sarà così, credo che queste siano le indicazioni che ho dato, però ripeto, in questo momento io sono molto concentrato sinceramente sul lavoro, lo staff è concentrato su quello che è il campo e su questo noi dobbiamo noi dare sicurezza e qualità di lavoro ai giocatori.